Un Consiglio regionale indetto per questa mattina alle 11.30, siamo quasi le 19 e il Consiglio ancora non inizia. Le commissioni sono ancora in corso, questo solo per i diktat che arrivano da Roma e in particolar modo dalla Lega di Salvini. Ci sono una serie di turbolenze a livello di Consiglio regionale, l'UDC che è sostanzialmente uscito dalla maggioranza e la richiesta della Lega di inserire all'ordine del giorno la modifica della legge elettorale nazionale attraverso la richiesta di referendum. Ci spiace tutto questo, noi stigmatizziamo questo comportamento poiché la scaletta delle priorità abruzzesi vengono emarginate da questo governo regionale. Abbiamo tantissime vertenze, abbiamo tanti lavoratori in difficoltà, i problemi delle infrastrutture, i problemi della sanità, dell'agricoltura. Questi temi vengono accantonati solo per il volere della Lega nazionale che vuole modificare la legge elettorale. I cittadini abruzzesi non meritano tutto questo, vogliono che si affrontino i tanti problemi della realtà abruzzese. Abbiamo tanti progetti di legge, tante norme, tanti provvedimenti da mettere in campo e da approvare. Tutto questo viene accantonato poiché Salvini vuole modificare la legge elettorale nazionale.